Il tempo corre in fretta quando hai una certa età e neanche te ne accorgi ma una settimana va ti svegli la mattina tutto pronto a lavorar ma è già arrivata sera e devi ancora cominciar due settimane dopo siamo fermi ancora qua i leoni ha in grandi idee ma tutto è ancora da realizzar e chicca intanto spera che tutto resti così per lavorare meno andare presto via di qui Giudice tu mi puoi dare una mano a fare il mio plastico? Non ho tempo devo gestire i rapporti io pensa ho qui il numero di telefono di un grande ex capo scout della J-Shift e pensa si chiama come me Edoardo e gli telefonerò perché sai per salvare questa bussola bisogna avere rapporti molto in alto Marco sai mi aiuti tu a fare il plastico? perché? ma per venderlo alla festa e salvare la nostra casa di riposo la bussola perduta è in pericolo ma non lo sapevo eh ma Maria è il tipo di plastico mi dispiace Nudo ma se mi interrompo adesso perdo il punto croce dai chi è chicca è chicca grazie a tutti